Andavo a cento all'ora per trovar la bimba mia, blen 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 Andavo a cento all'ora per suonare la serenata, ye 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 Amore aspettami, vengo subito da te, amore aspettami, taririririrati ta ta taririrati E adesso amici, dopo il simpaticissimo Stefano Miele, arriva Mirko Brunetti che oggi sbarca a Roma Vi aggiorno Eccomi qua, allora sono arrivato a Tiburtina, la situazione è che prima sosta bagno perché secondo voi poteva non andare così? Oh le perlitas versione foto che ci piacciono un sacco e poi non perdete queste pix Allora, Berrese con Cannavaro, Anita qui in versione pianto e in versione fagiolino quando era piccola Poi Antonella, arrivano anche la mamma di Mirko Brunetti, Mirko e poi Alessio Falzone Ciao